E bellissima a tutti ragazzi Qua è sempre il vostro lucavado Sempre il vostro lucavado, come sempre E che vi parla Sono plegabani E scusate E che prima lui stava in casa Adesso è uscito Adesso ci muore Vuole entrare nella macchina Cosa vuoi fare? Scusate ma se mi vedete un po' che non so giocare E perché Non è che io mi sono guadagnati Tutti questi RP Mi sento assoluta la camera A me mi piace il più Questa mia è qua Scusate Scusate Non so perché Sono tutti i cecchini O tutte le armi Sono figo Sono vestito figo Ok Faccio un foto Faccio una cosa Adesso che mi resta questa Non le fanno così Adesso che mi resta Guardano Guardano Come si puoi sentire Che mi fa qualcosa Opa Si fagano la testa Sotto qua Il fa La fagano la camera L'achbar 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 Si circumstances Sotto qua L'achbar L'achbar Nooo, ha perdonato la partita! Uh! Aspetta! Chi è? Chi è? Precapane! Aspettate, forse è un mio amico Chi c'è in sessione? Chi è? Oh! Martino! Martino, c'è un mio amico! Mi scrivo un messaggio perché è un mio amico Mi scrivo un messaggio Mi scrivo un messaggio Mi scrivo un messaggio Ci piace quanto spiegare in un modo tom la bomba atomica guardate il mio amico figlio martino spettaccio ok 4 cc non posso dirmi non voglio dirmi di aspettare ok i got stuff to do mmi we expect the unexpected si tutte le armi i think we can handle that i think we can do i think we can do i think we can do Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.